Ciao ragazze, allora spinta da alcune richieste che mi hanno fatto alcune ragazze sia su facebook che su youtube sono qui a girarvi il video della mia dieta non l'ho mai girato perché pensavo che non potesse interessare a nessuno perché mi segue da poco, può andare a vedere i miei video precedenti che comunque ero un po' più in carne e ho fatto una dieta che ha portato i suoi frutti sono dimagrita 10 kg, io prima pesavo 80 kg e insomma sono dimagrita ho sempre fatto diete perché io sono stata magra solo da bambina si può dire poi sia alle medie che insomma alle superiori comunque alle medie vabbè portavo la taglia 52 per dirvi e vabbè mi disperavo perché non trovavo niente cioè mi dovevo mettere le cose da uomo praticamente, da ragazzo perché non mi entrava niente per dirvi all'epoca si portava tantissimo la onyx, la fard e io di tutte queste cose non ho potuto comprarmi quasi nulla quindi immaginate poi vabbè i vari sfotto di quegli idioti che insomma vabbè varie cose poi vabbè alle superiori sono sempre stata un po' in carne però poi ho acquisito insomma un po' più di sicurezza in me stessa un po' più di autostima e diciamo non mi sono mai sentita brutta anche quando insomma ero in carne stavo più in carne questo forse è stato un mio grande problema perché magari insomma se avevo meno sicurezza in me insomma non arrivavo a 80 kg e poi fare tanti sacrifici comunque io non sono qui per farvi fare la dieta che ho fatto io perché io non sono un dottore, non sono un nutrizionista, non sono un dietologo sono insomma qui per darvi vari consigli insomma quello che ho fatto io io personalmente ho seguito la dieta di una mia amica ma perché? che saluto ciao a te ma perché? abbiamo la stessa età siamo alte più o meno lo stesso abbiamo la stessa altezza e quindi ho fatto la sua dieta però già se le caratteristiche erano diverse io non potevo seguire la sua dieta ad esempio la sua dieta è incentrata perché ha problemi di ferro quindi io per dirvi la cambio un pochettino perché comunque lei tiene sempre la carne tiene sempre insomma carne rossa per incrementare insomma il ferro io comunque alterno perché io non ho problemi di ferro quindi bisogna tenere in conto anche questo una cosa che mi ha aiutato molto perché questa insomma è stata la dieta degli 80 kg che mi ha permesso di perdere 10 kg che è stata quella più dura da fare personalmente perché i primi periodi la prima settimana è davvero dura io sono stata spinta insomma a dimagrire non perché mi sentissi brutta vi ripeto ma per la possibilità di indossare quello che mi piaceva insomma per la prima volta per dirvi quest'estate mi sono comprato un tubino che non ho mai potuto mettere mi sono messa dei vestitini che non ho mai potuto mettere mi sono messa una gonna corta che non ho mai potuto mettere e quindi ti dà soddisfazioni questo e quindi niente mi sono stata spinta da questo a fare la dieta insomma bisogna essere un minimo convinte poi soprattutto quando vedete che perdete i chili siete sempre più convinte di seguirla io ad esempio la prima settimana ho avuto davvero seria difficoltà perché quella lì che insomma quella dei 80 kg è un po' dura si mangia poco ad esempio tenevo tipo 30 grammi di pane 40 grammi massimo di pasta poi se mangiate una pasta con i legumi ad esempio voi non dovete mangiare il secondo perché i legumi sono sostanziosi e contengono non so che cosa la mia mamma che è esperta di dieta quindi non potete mangiare il secondo ma soltanto delle verdure tipo insalata ingozzatevi di insalata fino a morire per insomma soddisfare il senso di fame che avete io ad esempio bevevo tantissimo quando sentivo fame bevevo un tanto bevevo vi consiglio l'acqua vita snella perché drena tantissimo e quindi quando ho fatto questa dieta qui bevevo tipo l'acqua vita snella per morire appena sentivo fame prendevo e bevevo quindi comunque quest'acqua insomma mi ha depurato tantissimo mi ha drenato molto ho perso tanti liquidi la prima settimana mi ricordo la prima settimana ho perso tipo 3-4 chili robe assurde ed ero tutta contenta perché comunque i risultati si vedevano poi cosa non fate come faccio io ad esempio io lo spuntino la colazione non la faccio ma perché io per esempio la colazione non l'ho mai fatta in vita mia cioè io mi prendo il caffè e sto bene cioè non è che faccio una colazione completa ed è sbagliato perché così la colazione vi permette di arrivare a pranzo e non morirvi di fame e lo stesso vale per lo spuntino il pomeriggio vi permette di arrivare a cena e non morirvi di fame purtroppo questo è un errore che faccio tuttora però vi ripeto non ho mai fatto spuntino né colazioni quindi non non l'ho mai fatto quindi mi sento strana sinceramente a girare questo video perché non so cosa dirvi essenzialmente insomma questa è una dieta sana si mangiano cose sane non c'è fritto non ci stanno cose gassose gassate non c'è ci sono verdure carne pesce in bianco principalmente qui comunque era veramente roba tipo insapore che si poteva insomma cercare di camuffare un pochettino con qualche odore tipo che ne so metteva un po' più di origano non lo so qualche pure nelle zuppe nelle varie cose che avevo poi questa qui ad esempio era buona perché vi diceva pure per esempio se avete un dietologo o un dottore che vi fa anche questo tipo di cosa che vi dice pure tutti i grammi come la preparazione del del pasto è molto molto utile da da fare ad esempio di olio ce n'era pochissimo per dirvi l'olio vi dico subito comunque veramente pochissimo veramente pochissimo 30 grammi in tutta la giornata quindi voi per tutte le cose che voi dovete mangiare dovete dovete insomma dosarle per tutte le per tutto quello che mangiate dovete dosarlo per la pasta per l'insalata la sera per il petto di pollo per i finucchi all'insalata per dirvi insomma è stata un po' dura però ha portato insomma i suoi frutti poi dopo questa sto seguendo adesso quella lì dei 70 kg che è un po' più sostanziosa si può dire poi piano piano vi abituate non avete più fame sentite insomma vi sentite appagate nel mangiare diciamo robe sane niente schifezze eccetera eccetera vi giuro ragazzi davvero non vi so dire quello che vi posso dire è di essere convinte di fare una cosa perché ci riuscite io anni fa pure ho fatto una dieta però non lo so ero poco convinta comunque non l'ho abbandonata miseramente ma comunque era una dieta devo dire la verità che non mi ha fatto perdere niente poi ho fatto la dieta di questo dietologo che è davvero bravissimo e insomma ha portato i frutti vi ripeto è stata dura i primi tempi si aveva fame si avvertiva fame e o bevevo tanta acqua oppure ne so mi fumavo una sigaretta che spezza la fame e queste cose qua però insomma è stata dura io vi consiglio di essere convinte di quello che volete fare perché se andate spedite ci riuscite io ovviamente adesso non è che sono una silhouette tipo che sono 50 kg cioè io per quanto sono alta cioè 1,58 dovrei pesare 60 kg però è altrettanto vero che il dottore che l'ha detto la mia amica noi per esempio stavamo ferme sempre 68 kg e comunque ha spiegato il dottore che una volta finiti di perdere tutti i liquidi non è inutile che insomma ci ammazzavamo più di tanto dovevamo insomma fare l'attività fisica è una cosa che vi consiglio non fare palestra perché poi insomma voi vi dimagrite però con la pelle insomma appesa che avete non potete insomma fare attività fisica sulla pelle appesa perché se no non vi permette poi di dimagrire non so se mi spiego andate a mettere muscolo su qualcosa che deve essere scesa ad esempio la pancia però vi consiglio che ne so di fare i movimenti per le braccia perché il braccio io ce l'ho ce l'ho appese obiettivamente è un po' appese ce l'ho quindi io facevo che ne so prendevo l'acqua facevo questi esercizi con due bottiglie d'acqua da un litro e facevo questi esercizi o questi così per evitare che il braccio se ne scende vedete più di quanto di quanto è sceso la stessa cosa vale per le gambe facevo che ne so qualche scuotto facevo gli interni coscia che dovrei avere gli esercizi qui che me li ha dati un preparatore atletico amico di mio padre e vi faccio vedere più o meno gli esercizi che facevo per non essere appesa perché io ad esempio sono arrivata ad un punto che avevo la pelle cioè un po' appesa io sono fortunata che per esempio ho una pelle dura e nonostante questo non è la tipologia come mi so spiegare quella tipologia di pelle morbida cioè un po' muscia come mi devo spiegare io ho la pelle abbastanza soda e tosta quindi non mi sono proprio appesa quelle cose bruttissime però insomma per tonificare un poco facevo questi esercizi qua e questi sono sono le serie esempio gli esercizi questi li potete fare tranquillamente perché sono esercizi insomma normali questi sono gli squat questo è per l'interno coscia il gluteo quest'altro pure per l'interno coscia come vedete la signorina l'addominale che la prima volta che l'ho fatto mi stava venendo un infarto infatti gli addominali sono quelli che ho avuto più problemi perché come potete vedere non avete modo di appoggiarvi con le braccia cioè dovete stare tipo così e fare gli addominali cioè una cosa allucinante infatti pensavo di morire e avevo tre serie da dieci quindi in totale trenta addominali e poi avevo questo esercizio qua che è buono per i fianchi per smaltire per smaltire i fianchi vedete di stare tipo fermi e muovere soltanto soltanto le gambe questo ad esempio sono degli esercizi che vi consiglio poi dietro c'è la corsa per chi ama andare a correre insomma ci stava la prima settimana di corsa varie cose però dato che io non sono una tipa che va a correre non l'ho mai fatto però io vi straconsiglio se avete pure amicizie che sapete insomma con chi andare di andare anche di andare anche a correre io spero insomma di esservi stata utile in qualche modo perché davvero non c'è poco da dire oltre questi piccoli insomma consigli che vi ho dato di bere molto di mangiare sano se avete fame di mangiare l'insalata perché alla fine vi è sempre concesse anziché metterci l'olio dentro ci mettavate tanto limone un po' di sale vi mangiavate insomma l'insalata per superire la fame oppure bere cioè io dato che avevo fatto la faccia da insalata bevevo bevevo a morire così sentivo insomma lo stomaco bello gonfio mi devo spiegare non so non so se mi riuscite a capire è abbastanza insomma pieno insomma questi sono i consigli che vi posso dare perché vi ripeto la dieta è fatta per le necessità delle persone io vi ripeto l'ho fatta perché la mia amica aveva la mia stessa età era alta come me lei ad esempio aveva problemi di ferro quindi alterno quello che sta scritto sulla sua dieta ad esempio tiene la carne spesso dato che comunque ho problemi di ferro non ne tengo l'alterno mi mangio il pesce mi mangio qualche ne so il salmone ferri ad esempio mi faccio fare il salmone ferri da mia madre con il limone oppure che ne so il pesce in bianco con il pomodorino fresco ma ad esempio vi do qualche formaggio dietetico mi prendo il primo sale quello lì con la rucola dentro che praticamente è un formaggio molto che non contiene molti grassi e io praticamente lo tagliuzzavo lo facevo tipo a cubetti e me lo mettevo nell'insalata di pomodori quando la sera tenevo l'insalata di pomodori e comunque il primo sale non è molto non è molto grasso come la ghiocca ad esempio io se vedo la ghiocca mi viene tipo un infarto perché ne ho mangiata a morire di sta ghiocca infatti tutta l'estate si può dire mi sono ingozzata di questa ghiocca una cosa ad esempio che si può bere perché ne so se voi scendete la sera ad esempio scendevo spesso la sera andavo al bar con gli amici però non mi potevo bere nulla vi consiglio di bere o un bicchiere di vino rosso perché il bicchiere di vino c'è sempre in ogni dieta un bicchiere di vino al giorno e basta e io quindi mi pio un bicchiere di vino oppure una birra perché vi sembrerà strano ma la birra ha meno calorie di un succo di frutta qualsiasi succo di frutta voi prendete anche quello all'ananas per dirvi è molto molto più grassoso della birra l'unica cosa che è la birra è il lievito però vi assicuro che come calorie il succo di frutta ne contiene di più comunque vi ripeto queste sono le quello che ho fatto io ho semplicemente seguito una una dieta c'è anche da dire che si può anche sgarrare ogni tanto cioè se dovete andare a un compleanno una festa una sera dovete uscire per esempio quest'estate ne so andavamo che ne so chiedi Salerno a Vietri per dirvi perché Salerno insomma sa di cosa sto parlando andavo a Vietri andavo all'Eco del Mare mi sono presa una coppa gelato cioè una cosa ogni tanto può si può insomma si può fare anche perché se no non campate più cioè state lì sempre a vedere se me lo posso mangiare non me lo posso mangiare cioè no ovviamente lo sguardo ogni tanto si può fare voglio dire e vi ripeto io non so che altro dirvi spero di esservi stata utile nel mio piccolo vi ripeto non sono un dottore non sono nessuno mi hanno chiesto tante ragazze di fare questo video perché hanno notato che comunque sono cambiata e per chi mi segue da tempo comunque si vede pure in viso che sono dimagrite per chi mi segue su facebook lo vede anche magari quando vi faccio le foto degli outfit perché prima non le facevo mai che comunque non mi sembrava il caso semplicemente cerco che ne so perché incerta di fare la dieta di spronarvi perché per esempio se siete come me che comunque vi sentite belle però ad esempio volete la soddisfazione di mettervi quello che pur vi pare e piace io ve lo vi consiglio di farla perché davvero vi togliete tante soddisfazioni niente io davvero ragazze non so cosa dirvi più spero di esservi stata utile tra virgolette vi ho raccontato un pochettino la mia esperienza e niente ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze ciao